di toccare gli altri, cioè abbiamo veramente scoperto un mondo che non ci apparteneva e le mani hanno assunto un significato diverso, tanto da celebrarle, per cui celebriamo oggi l'importanza delle mani. Noi partiamo da questo spunto, dalle mani, dal significato che io le sto usando in questo momento per avvalorare, dare un valore a quello che sto dicendo, quindi la gestualità. Con le mani facciamo tutto, costruiamo, disintegriamo, ci afferzziamo, tocchiamo, spostiamo le cose, cioè facciamo tante di quelle cose e non siamo neanche forse capaci a contarle. Le mani fanno tutto, è come dice appunto lo slogan della nostra locandina, la Montessori dice che è l'organo più importante del nostro corpo, considerato no, nel senso che è la parte veramente più importante, quella che ci permette di entrare in contatto con tutto il mondo esterno.